A Cypress Gardens in Florida, Villa McGee, il campionista internazionale di sci acquatico, ci fa vedere come ha vinto il titolo con una perfetta esibizione a zigzag. Questa sua abilità è frutto di lunga pazienza. Zigzag oggi, zigzag domani, Villa è arrivata a questa eleganza e a questa disinvoltura. E a questo coraggio, perché non è affatto facile sorridere sfiorando a 50 loro a tronchi d'albero come questi.